ciao a tutti e bentornati su fanat cogo oggi parleremo di due macchine fotografiche vintage sia degli anni sessanta una di loro una di queste macchine che l'ha già fatta vedere ma non mi ritrovo più video sono macchine fotografiche ovviamente anche vanno a pellicola fotografica quindi niente di digitale andiamo a vedere come sono fatte oggi parleremo di questa gioiellini queste macchinette fotografiche questa quella più piccolina e poi abbiamo questa qua che è un po grande più grande e abbiamo anche per quanto riguarda vengono mantenute insomma messa a coso ci abbiamo la custodia ovviamente roba degli anni 90 degli anni sessanta come vedete roba vintage che però per gli appassionati sono veramente carine insomma da vedere abbiamo allora la prima macchinetta che è questa si vede spero abbiamo qui le levette varie per far avanzare la pellicola è questa di qua pellicola fotografica quindi si parla di analogico niente di digitale pellicola fotografica che va inserita qua dentro questo si apre lo sportellino qui c'è il contatore di quanti scatti vengono effettuati e poi e poi abbiamo un bellissimo zoom guardate ottico ovviamente con vari parametri da regolare bel mirino ecco lo vediamo anche da quest'altra parte il mirino qui c'è lo slot per il flash per il flash che si può attaccare tramite poi c'era un filetto che andava da qualche parte qui c'è di essere un buchetto che adesso in questo momento non vedo questo è invece il pulsante per lo scatto è questa abbastanza compatta pesa un pochino nemmeno tanto però comunque standard diciamo come dimensione poi abbiamo poi la vedremo meglio abbiamo questa qua che è più grande guardate che bella anche questa ovviamente anni 60 analogica si apre qua dietro si mette la pellicola tramite qui ci stanno queste levette che si aprono si girano si aprono si può aprire qua dietro per inserire per inserire la pellicola fotografica qui c'è il mirino guardate che bel mirino pure qua che è c'è lo slot per il flash che è identico a quell'altro come caratteristiche e bellissimo zoom ottico guardate che bestia guardate il diaframma che si apre e si chiude ci sono molti parametri cioè questa credo sia abbastanza professionale poi abbiamo qui il pulsante per questo per fare lo scatto e la sorta una bellissima invenzione all'epoca c'è questa sorta di levetta si abbassa si abbassa si preme questo pulsantino qua e torna indietro questa è una sorta di timer per l'autoscatto perché quando arriva a fine corsa si ferma se ci fosse il flash eppure attaccato farebbe anche il flash e c'è l'autoscatto in pratica è molto interessante anche questa bella molto bella qui abbiamo le varie levette del caso e adesso navigiamo anche meglio eccola qua questa è la custodia sono allora sono delle macchie delle macchine fotografiche che io questo questo canale pensavo già di avere recensito un almeno una di queste due ma non trovo più questo video quindi nel dubbio l'ho rifatto perché credo sia una cosa vintage molto carina da vedere almeno per quanto mi riguarda insomma e niente io vi ringrazio per aver visto questo breve vlog e vi lascio i prossimi grazie alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti